Il 18 gennaio del 1992 nasce a Livorno Francesco Bardi, uno degli eredi designati del grande Gigi Buffon, nonché vice campione d'Europa nel 2013 con l'Under 21. Già nel giro delle nazionali giovanili a soli 17 anni, l'estremo difensore, cresciuto nel club della sua città natale, trova la sua consacrazione nel 2011, quando dopo essere stato ingaggiato dall'Inter, riceve a soli 19 anni la chiamata del CT Ciro Ferrara, che lo fa esordire con l'Under 21 nell'amichevole contro i parietà della Svezia. Eletto miglior portiere della Serie B 2012-2013 con la maglia del Novara, Bardi si conquista così una maglia da titolare negli azzurrini di Davis Mangia, con i quali disputa i campionati europei in Israele, terminati dall'Italia con una prestigiosa medaglia d'argento. Convocato poi dalla nazionale maggiore per lo stage del 10 e 12 marzo 2014, il portiere attualmente in prestito al Chievo Verona ha contribuito anche alla qualificazione dell'Under di Luigi Di Biagio per la fase finale di Euro 2015. Ora quindi il prossimo obiettivo di Bardi è quello di entrare a far parte dell'Italia di Conte, al fianco magari proprio del suo idolo, Gigi Buffon.